salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft ed episodio allora mi stavo recando nel nether per raggiungere il progetto della grande catacomba di nazaric poiché ne sono andato molto avanti ebbene ho dovuto costruire delle altre cose prima per riuscire a portarmi davvero avanti allora se non sbaglio vediamo il secondo ingresso vedete che avevo messo i cartelli e un pochino più avanti c'è quella di nazaric allora in questo episodio vi farò vedere i progressi fatti per nazaric e andremo a svolgere un progetto che avevo preparato veramente un sacco di anni fa ma veramente un sacco quindi potrebbe non essere bellissimo per carità però la stanza l'avevo scavata e avevo preparato il posto e è ora di fare questo progetto insomma come la casa di Lobbit non ricordo di averla finita sinceramente dovrei controllare ciao pigman allora come potete vedere sono andato parecchio parecchio avanti come vedete c'è il soffitto e se qualcuno di voi ha pensato che sia fatto ferro ha detto giusto e sono esattamente dei calderoni quindi si ho utilizzato tutto il ferro che avevo per fare il soffitto con i calderoni devo dire che da sotto fa un effetto davvero figo soprattutto quando è fuori buio comunque dovrò fare anche un altro layer di mattoni qui ho chiuso tutto e ho fatto anche una parte esteriore solo di un lato così adesso devo finire l'aggiunzione col soffitto e fare il retro e il lato di là mentre per quanto riguarda qui l'altezza ho già preparato il muro di contorno ho fatto un po' di calcoli anche per le scale come vedete le ho finite e un po' di calcoli per metterci sotto i livelli della catacomba e per non essere massa in alto ecco sono precipitato di sotto e ho fatto un po' di terraformazioni intorno in modo che non si vedesse troppo lo stacco ci è voluto parecchio tempo bene allora adesso torniamo indietro molto velocemente vi faccio vedere la nuova farm che ho fatto di ferro perché ho finito tutto il ferro che avevo tranne quello preso in minerali che dovevo ancora smeltare lì ne ho usato circa metà e ho avuto una cassa completamente piena doppia e vi faccio vedere questa nuova farm di ferro che è discreta e poi proseguiamo ecco allora per andare alla nuova farm di ferro si può passare qui per la farm di pozioni che non ricordo l'ho implementata completa si potrebbe essere forse manca una pozione ma non importa andando giù di qua esattamente davanti alla farm di canne di bambù che sta continuando a produrre possiamo anche automatizzarla c'è la manuale così e disattivarla adesso qua arriveranno i drop eccoli qui allora esattamente qui l'ingresso l'ho costruita in profondità ho chiuso tutte le possibili zone di spawn intorno quindi ho scavato un po' di cunicoli per recuperare tutte le varie caverne e buchetti che c'erano li ho riempiti ho fatto in modo con gli slab che non possono spawnare lo stesso qui ho messo i tappeti questi sono tutti i tappeti l'ancora slab tutto quanto ho fatto in modo che non spawni in giro sia più fruttuosa possibile adesso ci sono solo 27 lingotti però vi assicuro che erano pieni e anche qui ho messo i tappeti per evitare spawn indesiderati e funziona discretamente forse quella vecchia funzionava meglio ah questa è quella vecchia di rotaie e anche questa piena ovviamente l'ho fatta farmare a suo tempo ho fatto anche bene una delle ultime cose che abbiamo fatto con gli animali è qui e dove andremo a costruire noi poi ho preparato una cosa bellissima ma la faremo più avanti l'ho fatta sul mondo di prove per questa stanza qui allora vediamo un po' di che cosa abbiamo bisogno questi sono gli item di cui abbiamo bisogno per andare a costruire la nostra stanza insomma allora cominciamo subito con il pavimento e anche vediamo questi sono solo blocchi io ho bisogno di fare un petto qua sotto quelli e i pilastri esattamente facciamo 64 pilastri forse sono un po' troppi ma va bene lo stesso allora partiamo con l'ingresso che avrà il pavimento qui con questo materiale qua e il lato con le colonne così sostituiamo già questo anche perchè adesso bisogna un attimo vedere non ricordo se le avevo fatte esattamente giuste adesso andremo a vedere no non volevo aprire la cassa ok perfetto allora adesso sempre facendo il pavimento se non erro devo scavare un altro blocco qua su questo lato del muro perchè ho deciso di sistemare un po' e farlo un po' più largo quindi scaviamo e scavo di nuovo tutto in un layer sotto perchè questo qua lo faremo tutto esattamente con i blocchi di quarzo grezzo in questa maniera qua così che sono un po' carini che sono un po' carini però al centro lasceremo una un buco insomma dove andrà messa la lava qua chiudiamo che non ci serve allora scavo questo muro e il layer qua sotto e poi ci ritroviamo molto bene ho finito di fare il pavimento adesso andiamo avanti allora facciamo le finestre quelle che vengono messe qui e allora avrò bisogno di un tre per tre così no? forse di più adesso vediamo un attimo perchè voglio mettere queste scale in questa maniera qui no ok questo è perfetto si può anche passare tra l'altro con le nuove impostazioni e facciamo la stessa cosa anche sul lato di qua così abbiamo fatto queste finestre davanti molto bene no aspetta qua c'è un errore no è giusto mi pareva ci fosse un errore invece no è giusto ok 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 allora adesso andiamo a mettere i pilastri che stanno a uno di distanza di qua e di là e sono sei se non mi sbaglio uno due tre quattro cinque e sei poi qua ci sarà una parte di troppo che dopo andrò a riempire adesso li mettiamo pieni fino al soffitto che poi dovrò anche ripiazzare dovrò dovrò rifare il soffitto lo farò dopo con calma intanto adesso andiamo avanti in questa maniera qui mettendo queste colonnati e adesso li rinforziamo scale di quarzo che andiamo a fare subito quindi mettiamo anche verso l'ingresso non so quante farne vabbè facciamo uno stacchi intero e non importa ok e anche da questo lato in maniera da fare un piccolo archetto qui invece li mettiamo solo così e anche sul lato opposto così allo stesso modo qui adesso andremo a fare le le finestre ovvero uno si uno no qui sotto con le scale e il vetro quindi mettiamo gli scalini così c'era già un buco doppio e così adesso qua alziamo il muro e lasciamo prima facciamo questo così è più comodo ho finito i mattoni vabbè posso farne degli altri adesso al volo così qua riempiamo che non ci serve poi toglierò via anche il preziosissimo quarzo messo di troppo anche quello sotto le colonne potevo togliere va bene non importa abbiamo un sacco di risorse anche se ne sprechiamo qualcuna non muore nessuno perfetto e adesso questo lo ripiazziamo così da non rendere il muro troppo come dire piatto perché sennò fa un po' schifo visto che potrei mettere i pannelli effettivamente al posto del cubo non ci avevo pensato all'inizio allora adesso mettiamo i pannelli così viene tutto più carino e coccoloso quindi andiamo a craftarci i pannelli di vetro qui intanto ne facciamo 16 non so se basteranno vediamo subito dai passa dall'altra parte ok bene fa un bell'effetto si sono anche più che sufficienti 16 ecco fatto me ne sono avanzati addirittura 4 e se qui facessi così wow non è neanche malissimo non si vedranno praticamente però va bene ok ok allora passiamo avanti da qui adesso perché non ci serve andrò a mettere il muro anzi ho sbagliato si ho sbagliato perché dovevo lasciare uno spazio più grande adesso quindi spostare tutte queste sul lato di qua di uno accidenti eh me ne sono accorto adesso devo lasciare lo spazio così le ripiazzo e torniamo molto bene allora ho ripiazzato qua le colonne ho rivisto questa cosa qua che adesso sposterò il muro di un altro più in qua per rendere tutto un pochino più carino e mi sono accorto che sul lato opposto purtroppo ho scavato troppo stavolta eh sì ho sbagliato anche lì e non di poco ho sbagliato di un paio di cubi anche scavando quello di prima quindi qua dopo recupererò tutto questo e andrò avanti con il muro qui che va fatto fino in fondo e andrà esattamente come quello dal lato di là quindi così aspettate questo lag maledetto lag e ho fatto anche un pezzo del soffitto così da portarmi avanti nel mentre bene allora adesso facciamo un'altra cosa molto importante per il progetto ovvero la parte finale in fondo che è fatta in questa maniera qua mi servono le librerie che abbiamo craftato vero che le ho sì ma ne ho poche dovrò fare altri accidenti allora il muro è così e così poi rientra così di due e di due dal lato di qua mentre qui dovrebbe essere se non ho sbagliato i calcoli così e così no ho sbagliato i calcoli non siamo al centro c'è un problema aspetta controllo allora spiegate un momento il centro è questo qui ok quindi doveva essere così esatto ho sbagliato ultimamente continuo a sbagliare dovrei smetterla che pizza allora così e così perché qui vanno messe le colonne in questa maniera qua ok anche queste vanno portate su là e qui mettiamo tutte le librerie in questa maniera qua così mettiamo queste che è di troppo e allora ho sbagliato di nuovo il muro sto sbagliando fin troppe cose qui aspetta no non così esatto sto sbagliando di nuovo era giusto il muro ragazzi ragazzi sono proprio distratto in questo episodio davvero non so cosa mi stia distraendo sinceramente però ce la posso fare ce la posso fare tranquillamente così questo va qua al posto di qua e ci possiamo portare anzi forse mi bastano giuste giuste anche se ho sbagliato sì mi bastano giuste giuste anche se ho sbagliato molto bene allora direi che per questo episodio è tutto vi ringrazio per la visione commentate condividete iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto guardate anche altri dei miei video noi ci rivediamo nel prossimo episodio dove spero di riuscire a terminare questo progetto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti